Grazie Presidente. È paradossale che noi ci troviamo in questo momento a discutere di quanto riguarda il controllo sulle società partecipate dello Stato proprio a seguito delle comunicazioni che ci sono arrivate per mezzo stampa naturalmente perché il Parlamento è sempre esautorato da queste decisioni e dicevo per l'appunto la decisione in merito alle nomine dei soggetti e dei dirigenti chiamati a dirigere le società pubbliche, le partecipate pubbliche, soggetti che sono stati chiamati proprio negli scorsi giorni e la cui lista è stata presentata proprio attraverso il Ministero per il Ministero dell'Economia e Finanza. Ecco, in una situazione del genere, in una situazione di questa natura, noi ci troviamo a dover discutere oggi e a discutere volentieri oggi di quello che riguarda per l'appunto il controllo su queste società. Noi abbiamo presentato naturalmente una mozione in merito perché quello delle società pubbliche è un tema che dovrebbe essere affrontato dall'inizio fino alla fine, da monte fino a valle. Dovrebbe essere affrontato innanzitutto nel rispetto degli obiettivi che uno Stato vuole porre a queste società sia dal punto di vista del piano industriale ma anche dal punto di vista degli investimenti che si vogliono mettere in atto, dal punto di vista delle soluzioni che si vogliono portare, dal punto di vista del modello di sviluppo economico che si vuole dichiarare nel nostro Stato. Ed è proprio per questo che noi riteniamo che innanzitutto sia fondamentale fare in modo che tutti questi obiettivi siano trasparenti, tutti questi obiettivi siano dichiarati, tutti questi obiettivi siano resi e descritti in virtù del servizio che devono queste partecipate, queste società partecipate, avere nei confronti della collettività. Noi abbiamo potuto constatare che negli ultimi anni in realtà le società a partecipazione pubblica non sono andate in questa direzione, non hanno innanzitutto rispettato delle indicazioni che venivano date proprio per il benessere e per la gestione dei servizi per la collettività e soprattutto non hanno operato con l'interesse collettivo ma l'hanno fatto nel mero interesse privato e privatistico di chi veniva di volta in volta nominato a dirigere quelle società. E qui ci ritroviamo nella condizione per l'appunto per cui come si può tutelare un paese, dovremmo chiederci, come si può tutelare i cittadini di quel paese. A nostro avviso si tutelano ponendo in essere tutte le strategie indispensabili per fare in modo che i servizi essenziali vengano erogati in maniera profonda, in maniera continuativa senza che ci si ritrovi come è successo negli scorsi anni in una situazione per la quale i servizi essenziali garantiti ai cittadini venivano sempre meno. Ma soprattutto ci chiediamo come può essere che questa constatazione del fatto che le società pubbliche debbano operare per i cittadini non è una constatazione che dopo quattro anni di governo del Partito Democratico viene completamente meno. Anzi, noi ci rendiamo conto che in questi quattro anni si è visto più il prevalere di una strategia che più che favorire l'economia reale ha veramente favorito gli interessi privati delle persone che si ritrovavano a gestire queste società. Ci ritroviamo con strategie politiche che sono partite con Letta per finire con Gentiloni in cui il quartierino, il club e il giglio come è stato chiamato dei rampanti avventurieri della finanza ha dominato la scena e prevalso sulla parte sana del nostro paese. Il volano delle piccole e medie imprese italiane non è stato preso in considerazione, anzi il fulcro, il motore del nostro paese ha ceduto il passo ai magnati stranieri, ai maghi della delocalizzazione che giocano sul dumping e giocano sull'abbassamento del perimetro dei diritti con la perenne minaccia di fare le valigie per attaccarsi come una sanguisuga ai finanziamenti statali. Allora queste considerazioni ci permettono di dire oggi che il governo, i ministri sono stati incapaci di tutelare l'economia reale è quell'economia che può essere portata avanti, quel piano di sviluppo economico che deve essere portato avanti dalle società pubbliche che sono il braccio operativo dello Stato in questo punto di vista. E invece ci ritroviamo in una situazione in cui il tempo per elaborare le strategie utili è stato impegnato a garantire la continuità ai tanti governi che si sono susseguiti, dominati per l'appunto dalle poltrone, dalle nomine. Ecco perché per noi è rinunciabile iniziare a imporre un nuovo modello. Lo Stato è chiamato secondo noi a esercitare un ruolo guida, una governance seria delle società operanti in settori considerati strategici. L'Italia non può sopravvivere senza che siano fissati dei nuovi obblighi, senza che ci sia una gestione delle operazioni che arrivano dalle aree fuori dall'Unione Europea o effettuate da imprese di paesi come la Cina che stanno letteralmente inghiottendo interi comparti della nostra economia. Il governo italiano deve tornare a gestire i fenomeni, non a subirli. Dovrebbe in un qualche modo tra una primaria e l'altra, tra un'indagine e l'altra, tra un fallimento bancario e l'altra mettere al centro delle operazioni di sviluppo economico proprio le soluzioni per ottenere delle garanzie permanenti degli asset che sono ritenuti strategici per il nostro paese. Ma attenzione, anche la parola strategica è particolare. Gli asset non devono essere strategici per il governo, gli asset devono essere fondamentali per garantire quei servizi che devono essere destinati ai cittadini, devono essere controllati dallo Stato. Al momento la Golden Power italiana è un fallimento. Infatti, lo vediamo tutti i giorni, siamo esposti all'aggressione da parte dei paesi stranieri che arrivano in Italia a accaparrarsi parti delle nostre società pubbliche. Ed è per questo che è urgente che vengano prese delle misure straordinarie. Il governo si deve dotare di poteri speciali per ragionare l'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche e porre rimedio stringente alle delibere societarie con oggetto ad esempio fusioni, uccisioni o trasferimento all'estero della sede. La difesa di questi nostri asset, la difesa dei servizi forniti ai cittadini. Ma mi viene in mente che qui con Leonardo Finmeccanica potrebbe accadere l'esatto contrario. Chi si vuole favorire da questo punto di vista? Ahimè, per l'energia, le comunicazioni, i trasporti, il danno è imminente, bisognava farlo ieri tutto ciò. Il danno è ampio, ma bisogna arginare questa situazione. E questo purtroppo noi non pensiamo si possa aspettare dall'elezione, per esempio, del segretario del Partito Democratico. Bisognerebbe avere una visione completamente differente di come applicare questi fondamenti. Qualcuno ci ha accusato in passato di volere un paese in macerie per poterci ballare sopra. Questo non è il nostro desiderio. Ecco perché siamo ancora qui a proporre delle soluzioni chiare. Le soluzioni partono dal fatto che il 7 giugno del 2014 sono entrati in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 85 e il numero 86, proprio inerente ai poteri speciali, la Golden Power, attinenti alla governance di società operanti in settori considerati strategici. E con decreto del Presidente della Repubblica numero 108, le direttive dell'Unione Europea esigono che sia stabilita una soglia per l'opo obbligatoria, ma demandano agli Stati membri la sua determinazione. Per definire i criteri di compatibilità comunitaria della disciplina dei poteri speciali, la Commissione Europea ha adottato delle comunicazioni, ha individuato nell'articolato del Trattato 223, istituto della Comunione Europea, le disposizioni che autorizzano gli Stati membri ad adottare misure che ritengono necessarie a tutela degli interessi considerati fondamentali e necessari per i cittadini, ossia quelli relativi al comparto della sicurezza e della difesa. Ma il nostro Paese è da tempo soggetto a questa serie di acquisizioni da parte dei competitor diretti delle società che vengono acquisite. Cioè le nostre società pubbliche non solo non vengono tutelate, non solo non vengono mantenute nelle operazioni quotidiane, annuali, investimenti italiani che possano sviluppare l'economia del nostro Paese. No. Non è permesso ai competitor sul mercato di quelle stesse aziende di aggredirle attraverso le acquisizioni per piccoli pacchettini delle quote di queste società. Cosa si traduce questo? Si traduce in una progressiva grecizzazione dell'economia italiana, questa lenta svendita continua per distruggere l'economia reale del Paese. Si traduce in un processo di smantellamento che produce perdita di posti di lavoro, di competitività, di rilevanza economica. Voi pensate che i dati segnavano che qualche anno fa, fino a 15 anni fa, l'ENI aveva un complesso di dipendenti che si aggirava attorno a 110.000 dipendenti. Oggi, dopo una decina di anni, questi sono arrivati a essere 70-80.000, ma la metà sono operanti sul territorio straniero. La metà sono dipendenti all'estero. Perché si è permesso che gli investimenti, i soldi dello Stato, venissero utilizzati non tanto per fare investimenti sul territorio, magari anche in virtù dei comparti industriali che dovevano essere sviluppati, o dell'innovazione per la quale lo Stato doveva avere un ruolo fondamentale. Ma si è permesso questi soldi, utilizzarli, questi finanziamenti, utilizzarli per demandare all'estero l'operatività e l'utilizzo di queste imprese e l'operatività di queste imprese. Un altro caso è quello della Telecom. Viene da chiedersi se non è abbastanza vedere cosa sta succedendo nelle telecomunicazioni e cosa è successo con Telecom. Io ritengo che sia abbastanza esaustivo il dramma che ha subito il nostro Paese dal punto di vista della svendita dei cosiddetti gioielli di famiglia, ma soprattutto dal punto di vista della svendita dei servizi che vengono erogati ai cittadini. Ed è per questo che noi chiediamo al Governo degli impegni chiari. Ancora è paradossale doverli chiedere dopo che hanno già nominato i vertici delle società pubbliche. Però lo chiediamo perché crediamo che ancora ci sia la possibilità di far valere il benessere della collettività rispetto all'interesse della nomina e della poltrona di singoli che ancora oggi vogliono guidare quelle società. Chiediamo al Governo che si assuma tutte le iniziative perché si possa garantire ed estendere l'esercizio dei poteri della Golden Power con la previsione di partecipazione dello Stato italiano nell'azionariato oggetto dell'acquisizione, al fine di mantenere il controllo. Non è solo una questione di governance, è una questione di poter controllare la società, indirizzarla nei confronti del benessere e dei servizi che deve garantire ai cittadini. E mantenere questo controllo anche a tutti gli altri ambiti delle società pubbliche, di interesse nazionale, tra cui i trasporti, le telecomunicazioni, la gestione delle risorse pubbliche, la sicurezza. Noi chiediamo che il Governo assuma tutte le iniziative all'occorrente perché si possa prevedere che le organizzazioni, le società che acquisiscono pacchetti di quote delle nostre società pubbliche abbiano un'operatività sul territorio nazionale. Non è più possibile pensare che quelli che vengono definiti asset strategici, quelli che vengono definiti dei servizi fondamentali, oltre a essere svenduti, vengono svenduti non solo ai competitor internazionali di queste società, ma poi che queste società acquisendo queste quote non abbiano alcun interesse, se non quello speculativo, di utilizzare quella quota al fine di aumentare la garanzia e aumentare l'operatività della società internazionale nel luogo dove è la società stessa. Nessuno può e deve usare il nostro Paese come un mercato di quote azionarie delle società pubbliche, come una vacca da mungere sistematicamente, con dei governicchi sempre disposti a svendere le società a partecipazione pubblica. Il governo Gentiloni, il vostro governo, il governo fotocopia, non ne ho dubbi, non devo stare qui a dichiarlo, ma talmente fotocopia di quello precedente che nel grande esame dei dirigenti delle partecipate ha eseguito ogni singolo passo secondo copione. È lo scacco delle partecipate, il giglio magico, il giglio tragico che non è appassito ha deciso di riportare pezzi di Firenze, di quella Firenze vicina all'ex Presidente del Consiglio all'interno diretto delle società pubbliche. Ed è così che si utilizza il Ministero dell'Economia e Finanza come segreteria degli affari generali ed economici di Renzi. Eravamo certi che il governo nelle sue scelte non avrebbe mai utilizzato per la scelta i soli requisiti utili per una buona prassi, avrebbe dovuto e potuto fare un passaggio in più, ma in realtà non l'ha fatto. Questo Parlamento, questo Stato non è la casa del governo, è la casa dei cittadini. Le partecipate non sono l'albergo del governo dove nominare ciclicamente ospiti di interesse governativo. Quelle partecipate devono garantire servizi ai cittadini. Stiamo parlando di servizi inerenti alla distribuzione dell'energia elettrica, della gestione dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture tecnologiche del nostro Paese. Gestirle come se fossero l'appendice di un'azienda privata è fallimentare, ma soprattutto è diabolicamente sbagliato. E ci rendiamo conto che sono visioni completamente differenti. La lista dei dirigenti delle società pubbliche che abbiamo letto nelle scorse ore sui giornali è la dimostrazione di tutto ciò. Aziende di grande rilevanza per l'economia del Paese che sono state costruite grazie ai proventi delle tasse degli italiani sono date in pasto al delirio di ogni potenza dell'ex Presidente del Consiglio, descalzi che viene confermato in Eni, nonostante sotto inchiesta proprio per la questione delle tangenti nigeriane, che è una di quell'esternalità di cui non si può fare a meno di ragionare quando si parla di partecipate pubbliche. Cioè dal punto di vista economico le partecipate pubbliche hanno senso proprio per andare a combattere quell'esternalità, quell'esternalità che oggi come oggi sono per esempio la corruzione a livello internazionale. E nonostante ci sia una situazione del genere, un'inchiesta del genere talmente pesante perché quanto mai sappiamo che è vero che per operare in quei Paesi le aziende pubbliche hanno distribuito danari ai governi, governi tra virgolette, alle dittature di quei luoghi, quanto mai è possibile permettere la conferma di una nomina del genere proprio in quella stessa partecipata. Ma andiamo oltre. Abbiamo l'immancabile Marcegaglia, Suenav conferma dell'amministratore delegato Neri, Starace confermato in Enel, da Leonardo Finmeccanica Moretti ed Entra Profumo, un banchiere senza alcuna, sembrerebbe diretta competenza specifica, poi magari avrete modo in questi giorni di dire il contrario di tutto, ma penso che Profumo e la situazione di Profumo sia l'emblema di come ci sia bisogno per il governo di scambiarsi le poltrone perché se qualcuno rimane senza, come al vecchio giochino che facevamo da bambini con la musica accesa attorno a delle sedie, ecco, al posto di toglierla la sedia avete fatto un nuovo giochino per cui chi rimane senza la sedia gli viene regalata, gli viene aggiunta. 15 anni in unicredite MPS, forse è proprio la correlazione con MPS quella che vi ha fatto aggiungere questa sedia e questa poltrona Profumo. Perché è Profumo? Perché è l'uomo giusto che può trasformare Finmeccanica in un succulento spezzatino da destinare ad altri? Boh, lo vedremo nei prossimi giorni. Ma poi Fabrizio Landi, toscano, esperto in sanità, dunque è l'uomo giusto per occuparsi di difesa, soprattutto perché lo vuole Renzi, non perché ne sia conoscenza di difesa. Come non essere grati, infatti, a un finanziatore della Leopolda della Fondazione Open, se non quello di garantirgli una succulente poltrona come questa. Confermato in ennele il signor Bianchi, presidente della Fondazione Open, nonché consulente di quella Consip, guidata dal famosissimo Marroni, quello dell'inchiesta che conosciamo ormai ben tutti. Matteo Dalfante, tanto per cambiare Fiorentino, formatosi in GP Morgan, tanto per cambiare anche la GP Morgan, che torna a batter cassa. Imposte al posto di Caio, reo di non essere abbastanza renziano. L'elenco di questi petali e del giglio che pian piano decadono e vanno a ricoprire ruoli pubblici, società pubbliche, è così esteso che ci vorrebbero almeno un paio di giorni per parlarne. Tutti al loro posto. Mentre il presidente del Consiglio, Gentiloni, cosa fa? Anche Gentiloni è stato accontentato, che credete? Luca Verdernell, capo della segreteria particolare e dello stesso Gentiloni, quando era ministro degli esteri, nel Consiglio di amministrazione di Leonardo. Dunque Renzi è in mobilità, ma la sua truppa se la passa effettivamente bene. Ecco che invece noi incompetenti, noi populisti, noi che siamo arrivati qua senza avere una visione, secondo voi che oggi vi dimostrano che la visione è agli antipodi rispetto alla vostra non visione, ecco, noi pensiamo che ci volesse della meritocrazia in queste società pubbliche, ma soprattutto ancora di più, dovessero essere dichiarati prima gli obiettivi di quelle società pubbliche. Non si può pensare di dare le poltrone e poi aspettare che queste persone operino nell'interesse collettivo. Bisognava dichiarare quali erano gli interessi e gli obiettivi di quelle società pubbliche per lo Stato e poi scegliere in virtù di quegli obiettivi. Ma questo non l'avete fatto, sono più importanti le poltrone che gli interessi per la società e per la collettività. Ed è per questo che allora tra i nostri impegni e tra la nostra visione e concludo, c'è anche una proposta seria per poter valutare ogni volta l'incompatibilità per coloro che per esempio abbiano un procedimento giudiziario in particolar modo che coinvolge la società pubblica stessa, che abbiano già ricoperto l'incarico per due mandati, che abbiano superato un limite di età, che abbiano già operato come politici nel Parlamento italiano e in quello europeo la scorsa legislatura magari e che oggi o magari nel 2018 o speriamo nel 2017 a fine legislatura concludo, si ritrovino senza poltrone e vengono nominati nelle prossime società partecipate. Quello che stiamo chiedendo e concludo Presidente è una questione di visione di società per il nostro Paese e non di una visione di Paese per le società pubbliche. Grazie mille. Grazie a lei. Onorevole Tancredi, in via del tutto eccezionale, le do la parola per motivare rapidissimamente la sua consegna della relazione. Prego. La ringrazio Presidente, mi scuso per il ritardo e dovuto discutere e me ne assumo la responsabilità, mi scuso. Parlerò un minuto.